Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi Ben trovati all'appuntamento con Toscana Oggi un numero davvero speciale questa settimana ovviamente non poteva essere che così numero dedicato alla visita di Papa Francesco la prima visita in Toscana quindi pagine sul giornale normale ma anche speciali di 50 pagine sia su Firenze che su Prato allora andiamo con ordine apertura del giornale arriva Francesco l'editoriale un momento storico per tutta la Toscana effettivamente non può essere che così non è esagerato dirlo non è esagerato parlare di momento storico per tanti motivi appunto perché è la prima visita di Papa Bergoglio in Toscana quella che farà a Prato e a Firenze ed erano 30 anni che un Papa non tornava in queste due città l'ultima visita in Toscana quella di Benedetto XVI ad Arezzo però dicevamo questa è una visita storica anche perché si lega a un altro evento di importanza notevolissima come è il Convegno Ecclesiale Nazionale in fondo il Papa viene essenzialmente per incontrare i 2500 delegati al Convegno Nazionale Ecclesiale che si svolgerà dal lunedì 9 a venerdì 13 a Firenze e che avrà appunto come momento centrale l'incontro con il Papa in Santa Maria del Fiore però insieme all'incontro per il Convegno Ecclesiale Nazionale ci sono appunto questi due appuntamenti dedicati alle due città a Prato la mattina dalle 8 alle 9 e poi il trasferimento a Firenze dove nel pomeriggio ci sarà la grande messa allo stadio comunale Artemio Franchi dove sono previste 50.000 persone all'interno dello stadio e varie migliaia di altre persone sia nel vicino stadio Ridolfi da dove il Papa ripartirà in elicottero ma anche durante il percorso teniamo conto che ci saranno maxi schermi sia in Piazza Signoria che in Piazza Santa Croce allo stesso stadio Ridolfi ma di tutto questo avremo modo di parlare entrando proprio nel dettaglio delle pagine di questa settimana di Toscana Oggi Sì che sono tante se si aggiungono alle pagine del fascicolo regionale di Toscana Oggi poi le varie notizie informazioni più dettagliate che ci sono anche nelle edizioni locali del settimanale partiamo intanto con il primo piano con le dichiarazioni del Cardinale Giuseppe Bettori che presenta un po' i contenuti i motivi di questo grande appuntamento il Convegno Ecclesiale Nazionale con al suo interno quindi anche la visita a Prato e a Firenze di Papa Francesco il Cardinal Bettori parla del nuovo umanesimo che è il tema del Convegno un tema che evidentemente si lega in maniera particolare alla sede scelta per questo Convegno l'umanesimo fiorentino e toscano ha tanto da dire ancora oggi non è solo un fatto artistico, filosofico o culturale ma è intriso anche di attenzione per l'uomo in ogni condizione di vita soprattutto in quella più fragile e sofferente questa dunque è la lezione in qualche modo dell'umanesimo su cui la Chiesa Italiana verrà a confrontarsi a Firenze e poi su queste pagine anche l'attesa del Papa a Prato dove si parlerà in particolare del tema del lavoro una città laboriosa e multietnica questo appunto è Prato che si presenta anche come la porta al Convegno appunto il passaggio che Papa Francesco farà prima di arrivare a Firenze l'attesa anche a Firenze ovviamente dove tante realtà della città sono state impegnate mobilitate per preparare questo grande appuntamento dall'opera del Duomo che ha completato in gran fretta il restauro del Battistero l'apertura del nuovo grande museo del Duomo ma fino ai carcerati che invece si sono impegnati nella falegnameria del carcere di Solliciano per costruire l'altare su cui Papa Francesco celebrerà la messa allo stadio tutta la città insomma si è mobilitata per accogliere il Papa per accogliere la Chiesa Italiana per fare in modo che queste giornate siano il più possibile fruttuose dicevamo grande spazio anche sulle pagine locali di Toscana oggi in questo caso ovviamente la voce di Prato in apertura benvenuto tra noi Papa Francesco in questa visita del 10 novembre poi come dicevamo in apertura l'annuncio di questo numero speciale sull'evento che viene allegato appunto con l'edizione pratese Papa Francesco incontra Prato questo è il titolo del fascicolo una pubblicazione di 48 pagine veramente da collezionare che sarà distribuita agli abbonati del giornale ma che sarà distribuita anche direttamente in Piazza del Duomo a Prato per l'incontro con Papa Francesco ricordiamo che il Papa si affaccerà dal pulpito di Donatello della Cattedrale Pratese ancora dalle pagine della Voce l'intervista al Vescovo Franco Agostinelli Francesco ci aspetta dice il Vescovo ai Pratesi per dire che ci aspetta ritroviamoci tutti in Piazza del Duomo lungo il percorso diamo un'accoglienza degna della nostra città in questo invito pressante ad essere tutti presenti invito che sicuramente sarà raccolto dai Pratesi perché c'è grande attesa effettivamente nella città per questo incontro c'è grande emozione lo stesso Vescovo ammette di essere emozionato non sarà la prima volta che incontra il Papa ovviamente però insomma tutte le volte dice Franco Agostinelli tutte le volte che incontra il Papa è sempre un momento di emozione e lo dice con un termine fra l'altro simpatico dice non nego un po' di tremarella Francesco Apprato l'attesa è finita si legge nel paginone centrale sempre della cronaca locale pratese di Toscana oggi proprio per dire che ormai siamo veramente alla vigilia tutto è pronto anche dal punto di vista dell'organizzazione fra l'altro una notizia che riguarda i giovani i giovani che si ritroveranno in San Francesco nella chiesa di San Francesco vicinissimo ovviamente a Piazza Duomo lì passeranno la notte passeranno la notte in preghiera in adorazione e dormiranno con il saccappelo in chiesa questo è veramente un fatto particolare sarà una sorta come dire di giornata mondiale della gioventù celebrata in chiave pratese in attesa del Papa e poi in portante la diretta che TV Prato l'emittente appunto pratese farà di tutta la giornata del Papa quindi TV Prato non solo manderà in onda la diretta della parte pratese della visita ma anche tutta la parte fiorentina della visita stessa di Papa Francesco anzi la diretta addirittura si aprirà alle 7 del mattino e si chiuderà alle 23 della sera un impegno veramente notevole per quanto riguarda l'emittente pratese la diretta streaming oltre appunto che sul canale digitale che è il 74 di TV Prato ci sarà anche una diretta streaming sul sito stesso di tvprato.it ma anche sul nostro sito sul sito di Toscana Oggi quindi possibilità di diretta streaming anche su toscana oggi punto it e sulle pagine invece dell'edizione fiorentina di Toscana Oggi si racconta l'impegno della città l'impegno di Firenze per accogliere Papa Francesco e la Chiesa italiana tante le storie raccontate intorno a questa preparazione della Chiesa e della città di Firenze intanto il lavoro dei volontari sono stati e saranno davvero tanti quelli impegnati in queste giornate saranno centinaia per coprire tutti i vari settori del convegno l'accoglienza la liturgia gli eventi culturali collegati e tra loro ci saranno anche alcuni giovani che hanno dedicato a questo evento un mese intero e poi ancora tutto quello che ruota intorno alla messa allo stadio dove ci saranno l'altare lambone costruiti dai detenuti di Sollicciano e dai ragazzi di Villa Lorenzi la struttura che si occupa di lotta al disagio giovanile e la storia di Don Bledar prete fiorentino parroco di Campi Bisenzio ma di origine albanese giunto in Italia come immigrato clandestino poi è entrato in una parrocchia ospite di Don Giancarlo Setti e lì ha scoperto la sua vocazione ha iniziato il suo percorso che l'ha portato in seminario Don Bledar sarà uno dei testimoni della Chiesa italiana che parleranno fra l'altro in Duomo proprio davanti al Papa e poi la messa allo stadio con tutte le sue particolarità con tante opere d'arte o di artigianato fiorentino che vengono messe a disposizione per abbellire per rendere più bella pur nella sua sobrietà quella che sarà la liturgia allo stadio compreso un super coro con oltre mille cantori formato dalle parrocchie dalle corali parrocchiali di tutta la diocesi che si alternerà invece con il coro del maggio musicale fiorentino quindi anche qui la massima eccellenza musicale di Firenze accompagnata unita però in un legame stretto con la dedizione la passione delle migliaia di cantori che settimanalmente fanno le prove nelle varie parrocchie fiorentine ovviamente sulle pagine di Firenze anche tutte le indicazioni necessarie tecniche per la giornata del 10 novembre che sarà una giornata eccezionale anche dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda la città quindi come dove e quando ecco le istruzioni per la giornata però ovviamente c'è grande attesa c'è grande gioia in questo evento al di là di tutti i problemi che possa comportare un fatto del genere però tutte le istruzioni fra l'altro anche il comune si è mosso decisamente per tempo per organizzare al meglio questa giornata di Papa Francesco a Firenze dopo la visita a Prato si guarda a Firenze ovviamente anche dalle altre diocesi della Toscana ad esempio Vita Nova la prima pagina dell'inserto pisano di Toscana oggi si guarda a Firenze ovviamente per il convegno ecclesiale nazionale che è l'altro evento di cui dicevamo in apertura evento importante che mette davvero la Toscana al centro di questo particolare momento ricordiamo che il convegno ecclesiale nazionale è un appuntamento decennale della Chiesa italiana dove si fa il punto sulla pastorale dei prossimi dieci anni quindi è un avvenimento decisamente importante i pisani al convegno ecclesiale di Firenze si parla della delegazione appunto della diocesi di Pisa che sarà presente a Firenze sull'Araldo invece l'edizione della diocesi di Volterra anche qui si presentano i delegati a Firenze si racconta anche un incontro che c'è stato in diocesi le riflessioni sulle cinque vie le cinque vie per il nuovo umanesimo proposte proprio nella traccia per il convegno fiorentino anche sul rinnovamento l'edizione di Grosseto l'incontro tra vescovo e i delegati prima di partire per Firenze e anche sulla voce di Arezzo Cortona a Sansepolcro al lavoro per un nuovo umanesimo anche qui si parla dei rappresentanti della diocesi a Retina Cortonese Biturgenze a Firenze per il convegno ecclesiale ecco chi saranno i delegati l'impegno della Chiesa Retina nel dialogo con i lontani con i giovani a fianco degli ultimi un paginone centrale sempre dalle pagine di Arezzo Cortona a Sansepolcro dedicato appunto a Firenze 2015 segni per dialogare con il mondo quindi si riparla anche qui di come la diocesi si sta preparando ormai si è preparata anche perché ormai ci siamo al convegno si è preparata a questo evento della Chiesa Italiana in programma a Firenze anche sulla domenica l'edizione della diocesi di San Mignato un editoriale che presenta alcune riflessioni verso il convegno ecclesiale di Firenze e il tema viene legato poi a quello del lavoro il nuovo umanesimo del lavoro è il titolo per toccare anche appunto quelli che saranno i due temi dei due momenti della presenza di Papa Francesco in Toscana l'incontro con il mondo del lavoro a Prato e poi appunto il convegno sul nuovo umanesimo a Firenze chiudiamo questo ampio capitolo dedicato alla visita del Papa a Prato a Firenze lo abbiamo detto all'inizio non poteva essere diversamente non potevamo non dedicare grande spazio a questo evento chiudiamo parlando ancora del Papa purtroppo però di una questione di quelle che non sono certo positive è un lettore quindi parliamo delle lettere di questa settimana al giornale è un lettore che ci parla dei fatti successi recentemente in Vaticano quindi le false notizie da una parte ovvero sia la malattia del Papa il falso scoop e poi i presunti complotti e anche i tradimenti tradimenti reali come quello ultimo venuto alla luce nei giorni scorsi circa questa fuga di documenti avvenuta all'interno del Vaticano indubbiamente sono fatti negativi che non aiutano certo la Chiesa e in questo momento appunto c'è una realtà bella della Chiesa che è quella appunto di cui Papa Francesco è massima espressione c'è grande seguito dall'altra purtroppo ci sono questi episodi che non sappiamo mai quanto siano poi a orologeria quanto siano calcolati quanto dietro ci possano essere a volte operazioni editoriali spregiudicate non dimentichiamo che proprio nei giorni scorsi sono usciti due libri legati a questa vicenda e fra l'altro uno di questi libri addirittura è uscito contemporaneamente in molti paesi europei tradotto in varie lingue quindi a volte c'è anche da domandarsi quanto il tutto non sia architettato per gettare da una parte di discredito sulla Chiesa e dall'altra per promuovere appunto iniziative editoriali spregiudicate tra gli altri argomenti che troviamo sul numero di questa settimana chiuso questo grande capitolo dedicato a Papa Francesco al convegno ecclesiale nazionale troviamo una intervista con Guido Guidoni che è psichiatra e referente per la Toscana dei club degli alcolisti in trattamento una realtà presente in Italia attiva in Italia dal 79 che aiuta ha aiutato tante persone ad affrontare i problemi dell'alcol nei giorni scorsi ha tenuto a Firenze il suo convegno nazionale e con Guidoni parliamo del consumo di alcol tra i giovani un grande problema la prima causa di morte giovanile in Europa un grave problema che secondo gli esperti appunto va affrontato soprattutto con l'educazione la formazione dei giovani per dargli non solo messaggi positivi intorno all'alcol ma per spiegargli anche grossi rischi correlati all'uso di sostanze alcoliche un'altra intervista sulle pagine di Toscana oggi questa settimana un'intervista importante all'assessore regionale al diritto alla salute ovvero sia Stefania Saccardi che anche vicepresidente della regione toscana con la Saccardi si parla di volontariato del ruolo che può avere il volontariato appunto nella sanità ma si danno anche altre notizie di interesse notevole per i cittadini ovvero sia quello delle liste d'attesa sappiamo che è una delle questioni più annose anche in una regione come quella toscana dove tutto sommato la sanità funziona piuttosto bene questo va riconosciuto però quello delle liste d'attesa rimane uno dei problemi l'assessore lancia di fatto un'idea quella che le prenotazioni delle varie visite specialistiche delle varie analisi specialistiche siano già prenotate dal medico di base questo quindi potrebbe accorciare tutti i tempi e anche una volta per tutte le liste d'attesa appunto che sono questo problema che la sanità si porta dietro ormai da tempo nelle pagine di informazione religiosa si va ad esaminare un altro grande evento che ha riguardato la chiesa in questo periodo in queste settimane il sinodo dei vescovi sulla famiglia da poco concluso un appuntamento sicuramente importante ce lo racconta Don Maurizio Gronchi che è uno dei consultori che ha partecipato al sinodo teologo di origine toscana di origine della diocesi di Pisa è stato appunto uno dei consultori al sinodo e ci racconta quindi come si sono svolti i lavori e quali sono stati e anche quali sono i contenuti principali contenuti più importanti di questo percorso che si è svolto nell'arco di due anni e scorriamo rapidamente altre notizie e diamo conto questa settimana anche di un un convegno dedicato a Don Lorenzo Milani un convegno importante nel quale c'è stato un intervento decisamente forte del cardinale Giuseppe Betori che ha parlato di troppe mistificazioni sulla figura di Don Milani che ha parlato anche di consiglieri dei papi che sono stati improvvidi e poi dalle pagine di inventaria siamo sull'inserto culturale di Toscana oggi la via del volto santo adesso alla sua guida parliamo della variante alla francigena attraverso la Garfagnana nella descrizione appunto di una guida di carattere ambientale e poi ancora il rigore e la grazia le opere esposte in Palazzo Pitti a Firenze un'altra mostra importante e poi sempre da inventario rapidamente l'inizio dei tè di Toscana oggi appuntamento culturale dedicato agli abbonati del settimanale con la storia e gli aneddoti dei giubilei dalle pagine dalle varie edizioni locali di Toscana oggi segnaliamo anche qui qualche notizia da Prato Vecchio la professione solenne di Suor Paola che entra nelle domenicane una persona senza gioia e una barca a vela senza vento queste le parole del vescovo Mario Meini durante questa celebrazione dalla domenica l'edizione di San Mignato invece si parla di Monsignor Pio Alberto del Corona beatificato proprio poche settimane fa il del Corona inedito una interessante iniziativa dell'Accademia degli Euteleti sull'attività sanminiatese del Beato da Lucca si parla di Lucca Comics con l'evangelizzazione di strada che ormai da diversi anni accompagna questa grande manifestazione che attira tanti giovani e tra di loro appunto c'è anche chi cerca di invitarli a fermarsi in chiesa per un momento di preghiera da Cortona una notizia che riguarda un'immagine di Santa Margherita dalla Germania a Cortona torna la Margherita rubata in una soffitta di Friburgo riemerge dal passato una tela che era stata trafugata dai nazisti in Valdichiana sarà restituita al Museo Diocesano questa era la nostra ultima notizia tutti un grazie per l'attenzione e alla prossima settimana dove daremo conto della visita di Papa Francesco in Toscana di Friburgo di Friburgo di Friburgo di Friburgo di Friburgo